Ciao e benvenuti alla seconda parte di Una vita da vegetale. La storia che vi racconto oggi è la storia di una violetta, quindi una vita da viola. Il caldo sole di luglio inondava il sentiero al margine di un bosco di quercia. Mammola, una piccola e timida viola di bosco, osservava incantata il volo nuziale di due magnifiche farfalle arancioni, la femmina apparentemente imperturbabile e il maschio che le danzava intorno. «Che meraviglioso spettacolo! Non trovi?» chiese Mammola alla violetta che le cresceva accanto. La farfalla femmina, dopo l'accoppiamento, andò a deporre le sue uova sul tronco della quercia, ai piedi delle quali crescevano le viole. La videro svolazzare in quei paraggi ancora per qualche giorno, poi scomparve dalla loro vista e presto la dimenticarano. In agosto l'uovo si schiuse, il piccolo bruco si avvolse in un cuscinetto di seta e si addormentò, vedete qua, nascosto e protetto nelle fessure della corteccia della quercia, in attesa della primavera successiva. Le viole non ci avevano fatto caso, pensavano che ciò che capitava agli alberi non le riguardasse affatto e passavano le loro giornate ad accumulare l'energia catturata dal sole e a conquistare nuovo territorio intorno a loro. Vedete, questa violetta si allunga, anzi è questa, si allunga e fa crescere una nuova piantina. Questa si allunga, si chiamano stoloni questi. Allungando i propri stoloni, una sorta di steli striscianti, da cui spuntavano nuove radici e nuove foglie, formando delle piantine gemelle. in tutto e per tutto simili alle piante madre. Venne l'inverno e nevicò. Le viole dormivano sotto la coltra di neve. Qua ce n'è una, qua c'è l'altra. E i piccoli bruchi di pafia, la farfalla arancione, ve la ricordate? Continuavano il loro sonno nei loro cuscinetti di seta, nascosti tra gli anfratti della corteccia della grande quercia. Alla fine di febbraio la temperatura si alzò bruscamente e la neve si sciolse. Per tutte le erbe del bosco cominciò un periodo di attività frenetica. Alberi e arbusti erano ancora spoglie e per le piantine più piccole il momento era propizio per fare il pieno di energia e prepararsi alla fioritura. Non si poteva perdere neanche un minuto. Entro poche settimane l'ombra gettata dalle chiome dei giganti del bosco lo avrebbe messo tutte a dieta, permettendo al sole di far arrivare al suolo soltanto una luce soffusa. Questo invece era il momento di agire, di sfoderare fiori attraenti e ricchi di nettare. Mammola e le viole vicine portavano già i boccioli. Gli anemoni di bosco crescevano fitti tutto intorno, ormai quasi pronti a decorare il querceto con i loro numerosissimi fiori bianchi che paiono preparare il bosco a festeggiare gli accoppiamenti premaverili degli animali. Qua e là spiccava il rosa di un dente di cane. Ma torniamo alle nostre violette, che oramai cominciavano a dischiudere i loro piccoli ma graziosi fiori, in attesa degli insetti che li avrebbero impollinati. Mammola gettò un'ucchiata tutto intorno per controllare se le viole vicine avessero fiori più attraenti dei suoi e notò un bruco dorato, eccolo qui, a strisce nere, irto di soffici protuberanze simili a spine, che scendeva dal tronco della quercia ed era arrivato ormai quasi al livello del terreno. E si tratta di questo bruco. Il bruco ovviamente di pafia. Vi ricordate la farfalla arancione? Guarda che bell'animaletto! gridò entusiasta alla sua vicina. Sì, sì, sarà anche carino, non lo metto in dubbio, mormorò preoccupata la viola accanto a lei. Ma è un bruco! E i bruchi mangiano piante! Ricordati che noi siamo piante! I bruchi di pafia, in effetti, si nutrono proprio di viole. Quello di cui stavamo parlando si diresse sulla piantina accanto a mammola e cominciò a sgranocchiarne allegramente le foglie, una dopo l'altra, fino a lasciarla completamente spoglia. Mammola però, eccola qui, era stata risparmiata. I suoi fiori furono impollinati da un bombo e i semi cominciarono a formarsi nel frutto a capsula. La capsula maturando diventò più grossa e lo stelo si piegò sotto il suo peso fino a toccare terra. Quindi questa è la capsula piena di semi. Mammola avvistò una formica che passava poco lontano e la chiamò. «Ehi tu!» «Sì, dico a te!» «Che ne dici di un ottimo pranzetto offerto dalla casa per le tue sorelline ancora in fasce?» «E vieni un po' qua a vedere!» La formica, conoscendo la generosità delle viole mammole, accorse subito. La capsula si era spaccata, vedete, si è aperta, lasciando intravedere il gustoso contenuto. Bei semi lucidi, con una biancastra e appetitosa pendice di grasso, questa cosina qua attaccata al seme, messa lì apposta per ingolosire le formiche. La formica chiamò le compagne. «Ragazze, presto, tutte qua, venite a darmi una mano!» Gli industriosi insetti lavorarono instancabilmente fino a che ogni singolo seme, vedete, con la sua appendice di grasso, fu trasportato nel formicaio e raccolto nella nursery, dove vengono accudite e nutrite le larvette. Queste cosine biancastre un po' strane sono piccole di formica, larve di formica, accolto da strelle di gioia da parte delle piccoline affamate. Anche le larve di formica, come i bambini, sono un po' schizzinose e dunque si sbaffarono allegramente tutta quanta l'escrescenza di grasso, scartando però il resto del seme, proprio come aveva previsto mammola, perché se avessero mangiato il seme per lei sarebbe stato un disastro. Invece hanno mangiato l'appendice di grasso, messa lì per ingolosire le formiche. Le sorelle maggiori, quindi le formiche adulte, ripulirono la camera, raccogliendo tutti gli avanzi e trasportarono fuori dal formicaio, quindi questi semini senza più l'appendice, insieme a tanti altri rifiuti e li gettarono nella loro discarica. La primavera successiva, alla prima pioggia, i semini di mammola che avevano dormito tutto quel tempo, quindi questo è il semino, i gnari dell'avventura che erano loro capitate e del viaggio che li aveva portati lontano dalla mamma, formarono la loro radichetta, le loro prime foglioline e cominciarono la loro nuova vita, ben concimati dagli scarti dalle formiche che avevano anche fornito un morbido e accogliente lettuccio. Non lo potevano sapere, ma la vita per loro era facile grazie al patto vantaggioso stretto dalla loro premurosa mamma con le formiche. E sì, perché vi ricordate che ci sono degli animali che trasportano in giro i semini che hanno bisogno di allontanarsi dalla pianta madre per avere più luce. Proviamo a riordinare insieme la sequenza della vita della viola. Uno. Sulla pianta di viola sboccia un fiore. Eccolo qua. Quindi qui vediamo la pianta che fiorisce. Il fiore, impollinato, si trasforma in frutto che contiene i semi, la famosa capsula. I semi cadono a terra e li trova una formica. La vedete la capsula appena spaccata è la formica che va a prendere i suoi semi? Mettiamo il numero 3. 4. Le formiche raccolgono il seme e lo trasportano fino al formicaio. Ecco qui la figura. 5. Le larve mangiano l'elaiosoma. È un nome un po' difficile ma si chiama proprio così quella parte di grasso attaccata al seme. e il resto del seme viene gettato fuori dal formicaio. Le vedete le larvette che mangiano? Ecco qua il numero 5. 6. Il seme germina e spunta una nuova piantina. E quindi le violano stretto questo patto con le formiche che permette loro di far viaggiare i semi lontano dalle piante e madre. Quindi questa scheda si chiama insieme si sta bene perché questo della formica non è l'unico caso di un patto tra piante e animali un patto che dà un vantaggio a tutti e due. Vediamo questi tre esempi. Nel primo vediamo un fiore. Voi lo sapete perché le piante fanno questi bellissimi fiori profumati ricchi di nettare lo fanno per attirare gli insetti. Quindi il fiore i pietali sono una specie di cartello indicatore sono qui venite da questa parte è anche una piattaforma di atterraggio per gli insetti. E il nettare è il premio che gli insetti prendono. Ma cosa succede quando l'insetto si posa sul fiore? Si sporca di polline che è quella polverina gialla che si trova di solito al centro del fiore e volando di fiore in fiore portano questo polline e lo depositano al centro di altri fiori. E attenzione bambini solo così grazie agli insetti come le api o le farfalle o anche tanti altri insetti diciamo meno famosi per compiere questo lavoro cosa succede? Che il fiore si può trasformare in frutto con dentro i semini quindi senza gli insetti la pianta non potrebbe fabbricare i frutti e i semi è un patto importantissimo la pianta nutre l'insetto l'insetto in pollina e quindi trasforma il fiore in frutto. vediamo il secondo caso di cui avevamo già visto qualcosa nelle schede della prima parte della lezione però io non so se l'avete vista dentro le ciliegie ci sono i semini nocciolini ma perché la pianta fa queste ciliegie succose intorno al nocciolino? Proprio per farsi mangiare dagli animali la pianta non ha pensato a noi che i nocciolini li buttiamo in spazzatura pensa ad animali come la volpe che si mangia tutto e poi dopo aver digerito la polpa succosa del seme i nocciolini li espelle quindi avete capito cos'è questo? sono i nocciolini espulsi e si trovano dentro una bella cacca di volpe forse a voi non sembrerà bella però è sicuramente utile perché perché questi nocciolini qui dentro adesso hanno viaggiato sono stati trasportati lontano dalla pianta madre e non solo ma sono stati anche concimati perché la cacca di volpe è un concime per loro e quindi quando pioverà e quando verrà il momento giusto i semini germineranno e cresceranno delle nuove piantine quindi di nuovo un patto tra piante animali la volpe o altri animali anche mangiano il frutto e trasportano lontano il seme e ricevono in cambio appunto un buonissimo cibo nel terzo caso vediamo il caso della viola quello della storia che abbiamo appena letto anche qua si tratta di trasportare lontano il seme però invece di un appetitoso frutto intorno la viola mette un appendice di grasso quella che ingolosisce le formiche che prendono il seme lo trasportano al formicaio le larvette mangiano l'appendice di grasso e poi il seme viene buttato fuori e da questo semino germinerà la violetta pensate che la violetta fa fatica a germinare se il grasso non è stato staccato dal seme quindi c'è proprio una connessione tra queste violette la viola mammola e le formiche e tutte e due ne ricavano un bel vantaggio nella nostra storia abbiamo visto che il cibo preferito dai bruchi di pafia questa farfalla arancione sono le piante di violetta ma i bruchi di ogni farfalla ognuno di loro ha una preferenza ha una pianta particolare che preferisce e meno male che è così perché se tutti i bruchi di farfalla si accanissero sulle povere viole le viole scomparirebbero dalla terra quindi ogni bruco ha la sua pianta preferita proviamo ad associare ognuna di queste farfalle alla sua pianta questo è un maccaone e le piante preferite dai bruchi di maccaone sono le carote selvatiche dai fiori bianchi quindi prendiamo la matita se avete naturalmente la scheda se no guardate basta e associamo il maccaone con la pianta di carota la pafia abbiamo visto che ama le viole questa farfallina azzurra si chiama icaro e la sua pianta preferita la pianta preferita dei bruchi è il ginestrino giallo lo vedete capite qual è il ginestrino tra le piante disegnate sotto è l'ultima pianta la farfalla gialla si chiama cedronella e i suoi bruchi amano gli arbusti di frangola una pianta dalle foglie ovali e dai semi dai frutti scuri riuscite a indovinare qual è la frangola tra le piante è questa qua centrale e quindi uniamo la cedronella alla frangola l'ultima farfallina si chiama evonimella e la sua pianta preferita è l'evonimo e si ha preso proprio il nome dalla pianta preferita del bruco che ha anche le foglie ovali ma i frutti sono sul rosa quindi uniamo evonimella ed evonimo evonimo o berretto da prete ed ecco fatto abbiamo dato ad ogni farfalla la sua pianta preferita quindi a seconda delle piante presenti in una certa zona potranno esserci determinate specie di farfalle e se queste piante mancano ovviamente le farfalle non potranno esserci perché non potranno nutrire i loro brucchi nelle schede precedenti avevamo visto un patto tra piante e animali in cui appunto piante e animali si aiutavano reciprocamente ma capita anche spesso che gli animali mangino parti importanti della pianta e che la pianta quindi si debba difendere una delle parti della pianta che viene mangiata sono ad esempio le foglie c'è questo albero che si chiama robinia che naturalmente non vuole che le sue foglie vengano mangiate e voi direte come fa un non so un cervo a mangiare le foglie di un albero che crescono in alto in alto è vero infatti quando la pianta è grande non deve difendere dai cervi ma quando la pianta è piccola oppure è stata tagliata e quindi sono rinati questi nuovi fusti le foglie che crescono qui sono alla portata dei cervi e quindi deve difendersi come si difende? con delle grosse spine disegniamo le spine nella scheda dove le disegneremo? le disegniamo qui dove vediamo un bel tronco alto e le foglie sono lontane dalla bocca dei cervi? o le disegneremo qui dove le foglie invece possono essere mangiate e quindi la pianta deve difendersi in qualche maniera? naturalmente le disegneremo in questa seconda parte del disegno quando poi la pianta cresce le spine cadono perché non ne ha più bisogno nel secondo disegno vediamo un bel fiorellino giallo si chiama ranuncolo i ranuncoli non vogliono essere mangiati e quindi sapete come si difendono? apparentemente voi non vedete nulla perché l'insidia è dentro le foglie ed è veleno se una mucca mangia le foglie di ranuncolo se ne mangia poche gli viene un mal di pancia se ne mangia tante le conseguenze possono essere anche più gravi e allora secondo voi una mucca si può scegliere tra questo prato e questo prato oppure queste due zone diverse di uno stesso prato dove andrà a pascolare? dove disegneremo la mucca? qui o qui naturalmente dove non ci sono i ranuncoli i ranuncoli non sono le uniche piante che contengono sostanze tossiche infatti i bambini dovete sempre stare attenti a non mettervi parti di pianta che non conoscete in bocca né foglie né fiori né frutti perché alcune piante contengono dei veleni potentissimi si può mangiare solo quello che conosciamo bene come commestibile non dimenticatelo mai l'ultima stratagemma di difesa è quello che avevamo anche visto usare dal pino nella prima parte della storia se l'avete sentita non so se vi ricordate che il pino alternava anni in cui faceva poche pigne e anni in cui ne faceva così tante che sarebbe accorso un esercito di scoiattoli per mangiarli tutti tanti alberi usano questo stratagemma se producono frutti loro vogliono che vengano mangiati ma non vogliono che venga mangiato il seme perché è dal seme che nascerà una nuova piantina in questo caso abbiamo delle querce e il seme delle querce può essere mangiato dal topolino le ghiande come fa a difendersi quindi ci sono degli anni in cui producono pochissimi semi quindi pochissime ghiande e quindi non ci saranno tanti topolini in quel bosco se c'è poco cibo poi dopo qualche anno cosa succede e questo si chiama anno di pasciona che pensate un po' tutte le querce di un bosco e quindi vuol dire che si parlano in qualche maniera tra di loro non con parole ma comunicano tra di loro un certo anno si mettono tutte d'accordo e dicono quest'anno facciamo tantissimi semi e quindi ne producono tanti ma tanti ma tanti che i topolini che vivono nel bosco che sono abituati ad averne pochi non riescono a mangiarli tutti e quindi in quegli anni di pasciona tanti semi potranno germogliare questo lo fanno sia le querce che ad esempio i faggi e tanti altri alberi quindi c'è un accordo tra tutti gli alberi del bosco pensate un po' allora adesso disegniamo le ghiande su queste due querce anzi è la stessa quercia ma dove non c'è scritto niente è un anno normale nell'altro caso è un anno di pasciona dove disegneremo poche ghiande e dove ne disegneremo tante tante poche ghiande nell'anno normale tante ghiande nell'anno di pasciona quando i topolini non ce la faranno mangiare tutti questi semi e quindi tanti di loro potranno germogliare saranno stati quindi diciamo un po' imbrogliati dalla quercia quante strategie che hanno le piante l'avreste mai immaginato vediamo adesso insieme le funzioni del bosco accanto alla prima figura c'è scritto i boschi proteggono i terreni in pendenza i boschi hanno quindi una funzione protettiva proviamo a vedere cosa succede se in questa zona vengono tagliati tutti gli alberi e il pendio resta quindi completamente nudo mettiamo che incomincia a piovere a piovere forte come succede anche spesso di questi tempi la pioggia forte smuove il terreno non più trattenuto dalle radici delle piante e sopra la casa può arrivare una grossa frana purtroppo è quello che capita spesso ultimamente quindi i boschi invece trattengono il terreno con le radici e proteggono il terreno e le case dalle frane sono importantissimi in questo secondo caso è la stessa zona ma non quando piove quando nevica cosa succede se tagliamo le piante le piante avrebbero trattenuto la neve invece così senza niente che la fermi la neve può rotolare giù e si forma una valanga che può anche distruggere la casa quindi la funzione protettiva degli alberi è molto importante se hai la scheda davanti a te disegna anche tu le crocette rosse sugli alberi e nel primo caso la frana con il pastello marrone e nel secondo caso una valanga gli alberi però hanno anche una funzione produttiva producono legna da ardere per il cammino poi legna da costruzione per i nostri mobili e da opera anche per il tetto per costruire parti delle nostre case guardati intorno nella tua casa cosa c'è fatto di legno ricordati che il legno non è sempre quello del legno a volte può essere stato dipinto quindi controlla quello che non è né di metallo né di plastica e senz'altro è fatto di legno e colora in questa figura tutto quello che nella tua casa è fatto di legno cioè se gli scaffali sono di legno colore gli scaffali se hai le sedie di legno colore la sedia se hai il tavolo di legno colore il tavolo se hai il cammino o la stufa colore i ciocchi qua se hai il pavimento di legno colore anche il pavimento magari usando utilizzando dei marroni di tipo diverso io ho la stufa scaffali sedie tavolo di legno e quindi ho colorato queste cose tanti oggetti nella casa sono di legno facci caso quindi il legno è un materiale molto importante per prenderlo naturalmente dobbiamo tagliare il bosco ma dobbiamo fare in modo che il bosco ricresca sempre non che il bosco scompaia se no questo materiale non potremo più averlo il bosco poi producono anche cose buone da mangiare ti viene in mente qualcosa di buono che ha prodotto direttamente o indirettamente la pianta beh direttamente le castagne direttamente il miele perché grazie al nettare il polline delle piante le api fabbricano il miele quindi senza le piante non potremmo avere questo alimento delizioso e tanti funghi come ad esempio il badius crescono nel bosco intorno alle piante quindi senza boschi non potremmo averli poi penso anche alle ciliege selvatiche insomma ci sono tante cose buone da mangiare ma i boschi hanno una funzione ancora più importante quella di pulire l'aria inquinata quindi le foglie assorbono aria spurca aria carica di anidride carbonica di smog e la trasformano in ossigeno puliscono l'aria e questo è un compito impagabile che nient'altro sulla terra può svolgere quindi i boschi sono preziosissimi sono il nostro polmone verde i boschi migliorano anche il clima hai mai notato che d'estate in città fa un caldo tremendo e si suda tantissimo e che se invece andiamo in zone più alberate si sta molto meglio questo perché il sole viene assorbito dall'asfalto e riflesso poi rilasciato nell'aria che si riscalda tantissimo invece i boschi le piante assorbono sì la luce del sole ma poi la trasformano in cibo e quindi non la rimettono nell'aria e l'aria resta più fresca quindi all'omino in città disegniamo un facino infelice e lo riempiamo di sudore perché fa tanto caldo allumino nel bosco e facciamo un bel sorriso perché lì si sta bene anche d'estate il bosco infine è molto importante per gli animali è la casa di molti animali ma tu conosci gli animali che vivono dalle nostre parti sapresti distinguere tra questi animali i nostri e da quelli che invece vivono in altre parti del pianeta perché a seconda delle piante che ci sono in un luogo ci saranno anche determinate specie di animali prova a guardare la farfallina gialla la cedronella ti ricordi ne abbiamo anche già parlato prima il tasso l'hai mai sentito nominare? questo è un gufo delle nevi ci sarà da noi il pettirosso la salamandra nera con le sue belle macchie gialle e l'orsetto lavatore o percione quali sono ci sono i due animali che non c'entrano niente con le nostre zone sono il gufo delle nevi e il percione gli altri invece sono tutti animali che possiamo trovare nei nostri boschi e facciamo qualche quiz vediamo se sai rispondere primo quiz la viola produce sui semi gli elaiosomi quindi delle escrescenze ricche di grassi perché? a per fornire cibo alla piantina che deve nascere perché dal seme nascerà una piantina quindi se c'è più grasso tanto meglio b per attirare le formiche e far portare il seme lontano dalla pianta madre c per rendere oleoso e vicido il seme in modo che scivoli sul terreno un po' come una slitta allontanandosi dalla pianta madre quale di queste è la risposta giusta? ti ricordi la storia? la risposta giusta è la b ti ricordi che erano venute le formiche e avevano portato il semino nel loro formicaio e che le screscenze di grasso era servita come nutrimento per le piccoline in cambio diciamo di questo passaggio dato dalle formiche quindi la risposta è b e infine se vuoi puoi costruirti anche tu un bel bosco una specie di diorama scaricando tutto il materiale dal sito del parco c'è anche una presentazione che spiega bene nei dettagli come fare ma prima ricordati di scaricare il materiale dal sito www.parcopineta.org nella sezione download e fai da te il parco dei bambini e anche questa volta siamo arrivati al termine della nostra lezione spero che vi siate divertiti e ciao alla prossima